gli aeroporti e l'aeroplano eccoci di nuovo all'aeroporto ecco le parti di un nuovo aeroplano il corpo giallo dell'aeroplano si chiama fusoliera ora alla fusoliera attacchiamo due bracci interranno le due ruote nere e adesso serve un'altra ruota sul retro della fusoliera con questa e con le altre ruote l'aeroplano toccherà il suolo posizioniamo le ali una sul lato destro e una sul lato sinistro ed ecco la coda adesso inseriamo la coda uno stabilizzatore a sinistra uno a destra e una deriva sopra ecco il vetro per la cabina di pilotaggio la bellissima elica eccola inserita bellissimo abbiamo costruito un aeroplano ad elica la coda ha un compito importante trovare un blocco con il numero quattro disegnato sopra cerchiamolo dove può essere eccolo sì vedete la bellissima farfalla posata sopra ed ecco l'elicottero cargo che sta per prendere il volo andrà a prendere il blocco e lo porterà all'aeroporto bravissimo operazione perfettamente riuscita eccolo tornata all'aeroporto il blocco numero quattro sarà presto al suo posto accanto agli altri e ora sta a noi contare i blocchi andiamo? contiamoli insieme uno due tre quattro vediamoci ancora per giocare con i nuovi bellissimi colori ciao a presto